Sogna, stupisciti, vivila. Al Teatro d'Europa di Cesinali sarà la stagione delle meraviglie. Tanti gli spettacoli nel ricco cartellone per la stagione 2024-2025 firmata da Gigi Savoia, direttore artistico del Teatro d'Europa di Cesinali. Tanto impegno, passione e abnegazione per mettere in piedi un cartellone di alto spessore culturale e teatrale, come sottolinea Luigi Frasca, presidente del Teatro d'Europa. L'obiettivo è quello di tenere il Teatro d'Europa aperto tutti i giorni, a tutte le ore. Si parte la mattina con una rassegna di teatro scuola che va da Pirandello a Goldoni e poi per i più piccoli le fiabbe, sino al pomeriggio con l'avanspettacolo per, diciamo, non mi piace dire la terza età perché è aperta a tutti. La stagione delle meraviglie alza il sipario sabato 5 ottobre alle ore 20 e 30 con lo spettacolo Affigliata di Raffaele Viviani, scritta nel 1924 con la regia del maestro Gigi Savoia. Un cartellone molto molto accattivante e culturalmente molto elevato. È una commedia particolare a cui il regista e il direttore artistico Gigi Savoia ci tiene molto perché con questa sua regia all'epoca c'erano, diciamo, personaggi del calibro di Sergio Solli, lui stesso che recitava, ha vinto un premio nazionale per la regia. È una regia particolare, non quella classica, insomma, è da scoprire.